E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria, vi ricordo come sempre che i nostri servizi ITG li ritroverete sui nostri canali social, Facebook, Youtube e Twitter. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, questa sera con la seconda edizione di Weekend Sabato. Grazie per averci seguito e a più tardi.